Ha ricevuto l'avviso di richiesta proroga dell'indagine il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Lo comunica lui stesso in una nota ribadendo la sua disponibilità ad essere ascoltato. In relazione alle indagini in corso da parte della procura sulla vicenda Coingas, dice Ghinelli, tengo a precisare che fin da quando, nel luglio scorso, il mio nome è stato associato dai media alle indagini in corso, ho sempre dichiarato e assicurato tramite i miei avvocati la disponibilità ad essere sentito nel caso ciò possa essere di utilità alle indagini. Disponibilità che non ho mancato di esprimere anche pubblicamente in un mio intervento in consiglio comunale. Lo scorso 19 luglio, nella trasparenza e rispetto del ruolo che ha sempre ispirato la mia condotta, prosegue il sindaco Ghinelli, tengo a comunicare che questo pomeriggio i miei legali mi hanno informato di aver ricevuto da parte del GIP l'avviso di richiesta di proroga del termine delle indagini, prima ed unica comunicazione ricevuta da parte dell'autorità giudiziaria. Dal luglio scorso della qualcosa intendo doverosamente mettere a conoscenza i cittadini, conclude Ghinelli.